Vittoria importante a Sassomarconi, che settimana è stata? Sicuramente i tre punti di domenica ci hanno dato quell'entusiasmo che da un po' di tempo mancava per via delle prestazioni un po' incolori delle settimane precedenti e questi tre punti ci danno una bella carica per affrontare domenica una partita impegnativa come quella di Forlì e speriamo di continuare. Tornando alla partita sempre col Sassomarconi, diciamo che è stata una volta in cui si è visto veramente una squadra compatta, aggressiva al punto giusto. Esatto, poi la cosa importante che secondo me domenica abbiamo fatto è che siamo riusciti per tutti i 95 minuti ad essere compatti, aggressivi e questo ci ha portato a una vittoria super meritata. Il Forlì è una squadra rispetto all'andata totalmente rivoluzionata, non tanto a livello di uomini ma a livello di gioco. Esatto, sicuramente il Forlì è sempre stata sia inizio anno che ora una società ambiziosa e incontriamo una squadra in salute, però anche noi siamo carichi e domenica dobbiamo trovare altri tre punti per continuare e per inserire un po' la classifica. Una squadra in salute tra cui diciamo Pera che nonostante l'età va sempre a segno. Sì, Pera sicuramente è l'attaccante, uno dei più forti del nostro girone e per questo dobbiamo stare molto attenti ma però noi pensiamo a noi stessi e appunto siamo pronti per domenica. Che partita bisogna aspettarsi? Sicuramente è una partita molto impegnativa sia dal primo minuto ma però se abbiamo l'atteggiamento di domenica compatti dal primo al 95esimo non abbiamo paura di nessuno.